Si è parlato in particolare di reti e infrastrutture per la mondializzazione e il made in Italy e quali prospettive ci sono per le imprese all'interno della prima mattinata della convention. Una realtà quella delle Camere di Commercio italiane all'estero che ha visto raddoppiare nell'ultimo triennio il cofinanziamento per attività di promozione, salito a 8,8 milioni di euro, a ribadire quanto si sta puntando sul lavoro coordinato di un sistema che proponga in modo strutturato e omogeneo all'estero prodotti e servizi italiani. Le Camere di Commercio italiane all'estero che sono entità private forniscono un supporto e un ausilio alle nostre economie, alle nostre aziende importantissimo e quindi per noi era fondamentale riuscire a fare questa convention ed organizzare. Domani ci saranno oltre mille incontri B2B tra le aziende e le Camere di Commercio straniere quindi un'attività assolutamente fondamentale che noi responsabili di questo sistema dobbiamo mettere a disposizione dell'economia. Noi collaboriamo con gli organismi nazionali di promozione, il primo dei quali è l'Agenzia ICE, però portiamo un vantaggio aggiuntivo, quello di riuscire a fare in modo che un'impresa, una volta che ha raggiunto l'estero, riesca a rimanerci, perché siccome le Camere di Commercio italiane all'estero si trovano sul posto, hanno bisogno, le imprese, di trovare dei punti di riferimento continuativi. Noi siamo un punto di riferimento continuativo che dopo l'iniziativa, dopo la missione, dopo la fiera aiuta l'impresa a rimanere, a fare accordi e collaborazioni, in altri termini a radicarsi sui mercati internazionali. Come ha ribadito il Ministro Centinaio nel suo intervento, dobbiamo recuperare quella visione di insieme aumentando il lavoro nei tavoli comuni che ci può portare lontano, valorizzando il tricolore all'estero aumentando le quote di presenza in mercati importanti. L'atteggiamento coeso è vincente ed altri paesi come la Germania ci insegnano, esportando cifre molto più alte come nell'agroalimentare, nonostante una produzione molto inferiore. Oggi le imprese non possono più esportare su un mercato, devono cercare di desiversificarsi su più mercati. La potenzialità che le Camere offrono è proprio quella di una diversificazione plurimercato, anche consentitemi, in una fase difficile come quella attuale in cui nascono barriere protezionistiche, quella di aprire questi mercati per fare sviluppo e fare occupazione. In realtà, tutto sommato, quando si parla di rete si parla politicamente di rete, poi in realtà non si fa la rete. Noi che siamo un'istituzione, diciamo pubblica, ma gestita dai privati, siamo gli unici che facciamo realmente rete e questo è fondamentale per l'economia italiana.